Bentornati a questo nostro spazio pomeridiano, uno spazio che ci permette insomma di navigare nelle acque di questi giorni, acque complesse tra pandemia e nuove emergenze. Insomma ci serviva a me ad Andrea una strizza cervelli per cui abbiamo pensato alla professoressa Perotti che vogliamo bene, che è una strizza cervelli simpatica e per cui la invitiamo a entrare qui con noi in questa nostra stanza virtuale. Buonasera. Buonasera a tutti. E allora noi vogliamo cominciare a parlare di un argomento che secondo me è l'argomento, ma come stanno cambiando le nostre emozioni? Non è che c'è solo emotivismo in giro e le emozioni non ci sono più, non è che c'è proprio un rischio che non riusciamo più ad emozionarci o che riusciamo solo ad arrabbiarci. Insomma l'Istat dice che siamo uno dei paesi più cattivi al mondo. Insomma non è che stiamo cambiando veramente in peggio, tu che percezione hai? Allora intanto buongiorno a tutti. Allora la percezione che ho rispetto le emozioni, allora sicuramente è aumentata la difficoltà nell'autoregolarsi rispetto alle emozioni. C'è una maggiore difficoltà proprio a processarle e ad esprimerle in un modo socialmente utile. quello che sicuramente sta succedendo causa Covid sostanzialmente comunque piccolo, comunque significativo trauma collettivo e che aumentano delle emozioni come tu hai detto prima sicuramente la rabbia, cioè forse c'è una ragione per cui è stato detto paese l'Italia è il paese più cattivo. Cattivo non nel senso di cattiveria ma nel senso di e che si assiste scusate all'aumento di comportamenti rabbiosi e aggressivi. Questo sì post pandemia come un aumento di emozioni legate alla paura mal gestita come i comportamenti ansiogeni. Ma tu davvero pensi che la nostra persona sia una società più cattiva, anche questo fenomeno agghiacciante degli haters, questa violenza sul web, questa voglia di fare del male comunque, di mettere sotto accusa tutti, di andare a caccia della persona contagiata, cioè tutto è diventato discutibile. Ormai questa idea che poi è passata anche politicamente dell'uno vale uno ci fa parlare di tutto e di tutti senza nessuna inibizione? Allora io sinceramente non penso che stiamo diventando più cattivi. Quello che penso è che sicuramente serve ed è necessario rieducarsi ed educarsi alla capacità di esprimere le emozioni. Siamo secondo me più che cattivi siamo inabili ad usare un linguaggio emotivo. Se è vero che siamo avanti nell'alfabetizzazione digitale è altrettanto vero che siamo indietro rispetto all'alfabetizzazione emotiva e una non può stare senza l'altra. Questo è un bellissimo concetto, la chiamo prof perché poi io sono abituato a chiamarla professoressa, che poi fa, visto che insegna con noi nel dipartimento di comunicazione ed è quasi uno simulo interno, cioè mi spiego meglio, se da anni diciamo, e tu lo sai anche meglio di me, che i grandi brand stanno puntando a diventare sempre più emozionali, empatici, a scaldare il cuore di consumatori, dall'altro abbiamo invece una società che sta diventando, non dico un'affettiva, ma che faccia sempre più fatica ad emozionarsi. E questo come riguarda anche, e pongo un tema sul tavolo, anche i millennials, che sono ovviamente quelli che sotto questa pandemia hanno sofferto molto perché gli abbiamo tolto le emozioni, nel senso, franciando gli rapporti sociali con i coetanei, gli abbiamo tolto anche l'opportunità di emozionarsi. E secondo me come usciranno da questo tunnel della pandemia, soprattutto i ragazzi più giovani, soprattutto da questo concetto anche della difficoltà ad emozionarsi e essere quasi degli analfabeti emotivi? Come faranno? Allora, in parte rieducandosi a questa forma di linguaggio, che è quello emotivo, in parte rieducandosi e anche aiutati in questo senso sicuramente a rieducarsi a quello che è del linguaggio del sé. Mi spiego. Anche a scuola, per dire, ci sono tanti corsi di educazione all'affettività, all'emotività, ma più che altro quello che adesso, al momento, sembra maggiormente utile, è quello di educarsi all'educazione alla psiche, all'educazione del sé, a capire, a comprendere che funziona in un determinato modo, perché sento questo, perché penso questo, cioè perché ho un determinato… la mia identità è fatta in un certo modo, cioè rieducandosi essendo aiutati a rieducarsi a questo tipo di linguaggio. In questo periodo… ah, sì, vai, 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 andrà, vai. No, no, è questo secondo te, nel senso perché poi i giovani comunicano spesso con i social, i social network potranno essere finalmente… cioè riescono a svolgere questo… cioè come possono aiutare? Oppure sono un freno alla capacità di emozionarsi, come dicevamo prima? Allora, senza… cioè non credo che ci sia il diavolo e l'acqua santa, credo molto in quello che ho detto prima, cioè che l'alfabetizzazione digitale serve che vada di pari passo con l'alfabetizzazione emotiva, quindi se non c'è e non si impara, non si viene rieducati dal punto di vista relazionale a usare un certo tipo di linguaggio verso di sé, verso l'altro, di rispetto ad esempio, è facile che lo stesso, cioè che si assista nei social ad un tipo di linguaggio che è poco rispettoso dell'altro. Ecco, l'importante secondo me è che le due alfabetizzazioni, scusate, vadano di pari passo senza che una ecceda… cioè senza che si utilizzi uno, un tipo di alfabetizzazione a discapito dell'altra, ecco. Non so se ho risposto. Sì, sì, hai risposto, ma ti volevo chiedere un'altra cosa, è un periodo in cui, anche noi ne abbiamo parlato qui in questa trasmissione, è un periodo in cui si parla anche di amori in crisi, di coppie completamente in crisi e soprattutto insomma diciamo che la pandemia ha fatto esplodere quelle coppie che già insomma non è che andavano proprio tanto d'accordo e quindi questa coabitazione forzata e anche il rapporto genitori figli è un po' cambiato, tu dal tuo osservatorio, dalle persone con cui parli, diciamo dai tuoi momenti di psicoterapia che idea ti sei fatta? Perché poi la domanda che è sempre quella che ci fanno tutti i giorni è saremo più bravi, saremo più buoni, saremo più cattivi, saremo diversi, su quello non c'è dubbio, ma che idea ti sei fatta? Stanno effettivamente come dice Bill Gates cambieranno i nostri sentimenti, cambieranno le amicizie, cambieranno le occasioni, ci ritroveremo solo online, è così oppure no? Se avessi la bacchetta magica potessi prevedere il futuro, no allora, no il senso è questo, allora sicuramente ci sarà un tempo in cui servirà veramente rieducarsi alla relazione perché quello che di fatto è mancato e ancora sta mancando, sostituito è proprio l'aspetto dello stare insieme, no? E quindi del fatto che io che mi ritrovo con te penso in modo diverso da te e sento in modo diverso e mi comporto di conseguenza. Quindi in questo senso sicuramente servirà un tempo per rieducarsi alla relazione. Le relazioni nello stesso tempo saltano proprio per l'eccesso di presenza, presenza forzata. Quindi dici che è peggiorata perché siamo più raggiungibili, siamo più costanti nei rapporti tecnologicamente, questo secondo te, questa è la tua valutazione? Tecnologicamente non so, direi allora che rispetto a quanto tu dicevi, cioè le coppie saltano, beh ragionevolmente sì, perché se prima voglio dire c'era già una situazione di crisi, quella che è una situazione ulteriormente di crisi, non fa che far saltare quel minimo di equilibrio che prima c'era. Rispetto al rapporto genitori e figli invece cosa ci dici? Cosa sta cambiando? Durante la pandemia, post pandemia, cosa sta cambiando nel rapporto genitori e figli? Allo stesso modo saltano alcuni equilibri. saltano alcuni equilibri perché in alcuni casi la convivenza, tra virgolette, è maggiormente forzata rispetto a prima, cioè si sta più tempo insieme senza a volte desiderare questo, quindi è una situazione forzata e quindi determinati equilibri anche qui di tipo familiare nel rapporto genitori-figli e figli-genitori, quindi nella reciprocità della relazione, saltano. quello che ragionevolmente mi posso aspettare è che a distanza di 6-8 mesi aumentino, cioè vengano a galla più fenomeni di carattere depressivo, questo sì, me lo aspetto, e stati di insicurezza, perché siamo più fragili insomma secondo te rispetto a prima? Più fragili sì, nella misura in cui arriviamo con una scarsa educazione alla resilienza emotiva, e perché? Perché di fatto anche a scuola la parte di educazione alla psiche forse adesso viene introdotta, questa è la grande opportunità che è stata offerta adesso alle scuole con dei protocolli che sono stati fatti tra ordine degli psicologi e istituti scolastici, però di fatto c'è poca educazione alla psiche, quindi poca resilienza emozionale, quindi in questo senso maggiore fragilità. Io credo che quello che ha dato Luisa sia un messaggio importante, che in qualche modo la resilienza ci salverà, nel senso che o potrebbe salvarci e aiutarci ad essere più forti e meno fragili, come diceva Francesco, per fare naturalmente una sintesi, perché il periodo che stiamo attraversando sicuramente non è facile anche dal punto di vista psicologico naturalmente, e che spesso viene sottovalutato. Assolutamente sì, perché bisogna considerare, scusate, che la situazione pandemica si struttura psicologicamente parlando come una situazione da trauma collettivo, quindi quello che ragionevolmente possiamo aspettarci a distanza di 6-8 mesi, e questo ce lo insegna anche la psicologia dell'emergenza, che a distanza di 6-8 mesi dalla fine potremmo osservare anche gli effetti a partire dalla fine di una situazione di tipo traumatico che si struttura come tale. Quindi per questo dico vissuti di tristezza, depressione, vissuti di incertezza, tristezza, cioè mentre all'inizio magari c'è la rabbia e l'aggressività che, come dire, è naturale per certi versi rispetto a c'è un ostacolo, lo aggredisco, cerco di superarlo. Poi la curva dell'accettazione di quello che è il vissuto traumatico che c'è stato vira verso più il lato della tristezza. Per concludere, un consiglio al volo, che cosa consiglia a chi ci segue, a tutti i nostri telespettatori che ci vedono, ci ascoltano? Siate resilienti, ripetetevi come un mantra, viva la resilienza. Esercizi di tecniche di rilassamento, soprattutto sulla respirazione addominale. Dedicate del tempo, se non alla meditazione, quindi alla mindfulness, diciamo, ma comunque dedicatevi tempo, dedicate tempo a voi stessi, alla vostra interiorità. prendetevene cura, concentratevi, come se fosse una sorta di piccolo esercizio al di là, come una sorta di piccola preghiera che non vuole essere, come dire, legata a un credo, ma proprio un momento di riflessione su di sé.